Ben ritrovati alla NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto le curiosità di questa puntata. Nel 1818 ci fu la prima esecuzione di Silent Night. Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così in un piccolo borgo dell'Austria venne eseguito per la prima volta il canto di Natale più amato in assoluto. Finito nel dimenticatoio e cantato di tanto in tanto da qualche venditore ambulante, il brano acquisì grande popolarità oltre i confini dell'Austria dopo aver conquistato anche la corte dell'imperatore Francesco I nel 1822. La sua fortuna in Italia crebbe grazie alla versione italiana Astro del Ciel, non un'esatta traduzione del testo tedesco, pubblicata nel 1937 dal prete bergamasco Angelo Meli. La famiglia è la patria del cuore. E la curiosità di oggi riguarda il Natale. Tempo di Natale, le case si vestono a festa tra leggende e antiche tradizioni. Non c'è casa in cui manchi il classico albero di Natale, un tempo decorato con mandarini e frutta secca, oggi con palline variopinte e luci colorate. Questa tradizione affonda le sue origini in antiche leggende. Ma se la tradizione dell'albero è considerata un residuo di antiche pratiche pagane, lo stesso non può dirsi per il presepe. La sua diffusione si deve a San Francesco d'Assisi che, tornato dalla Palestina, desiderava portare in patria lo spirito della nascita di Gesù. Tradizioni davvero molto sentite anche nel nostro territorio. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Vi auguro di trascorrere in serenità questi giorni di festa. Buon Natale. Grazie a tutti.